Correzione di analisi matematica 1 Ora, ovviamente z è variata di g Facciamo la usuale costituzione in forma algebrica Abbiamo z uguale a2b z quadro uguale a quadro minus di quadro i2iab e infine modulo di z alla quarta uguale modulo di z alla quarta perché il modulo è moltiplicativo cioè a2 più di quadro al quadrato perché questo è modulo di z quadro quindi possiamo andare a sostituire e lo abbiamo 2a più 2ib più z alla quarta cioè a quadro meno di quadro più 2ibab uguale meno a quadro più b quadro al quadrato fratto 2 Adesso andiamo a scrivere il sistema quindi abbiamo ugualiando le parti ideali e le parti immaginari abbiamo 2a più a quadro meno di quadro uguale meno a quadro più b quadro al quadrato mezzi e poi togliendo da 2i abbiamo b che moltiplica a più 1 uguale a 0 b più a b che è in evidenza la b viene b per a più 1 uguale a 0 Adesso dobbiamo andare a risolvere questo sistema abbiamo due possibilità quella di qualsiasi più facile da risolvere è questa o b uguale a 0 quindi primo caso Allora abbiamo b uguale a 0 se b uguale a 0 qua mi rimane 2a più a quadro uguale meno a alla quarta diviso 2 che possiamo riscrivere come b uguale a 0 poi a alla quarta più 2a quadro più 4a uguale a 0 quindi questa qui l'ultima equazione possiamo anche scrivere mettendo in evidenza la a come a per a cubo più 2a più 4 uguale a 0 quindi questo ci dà subito una prima soluzione z1 uguale a 0 perché sarebbe a uguale a 0 b uguale a 0 e abbiamo una seconda soluzione che viene diciamo da la soluzione di questo sistema b uguale a 0 quindi si tratta di un numero reale poi abbiamo a cubo più 2a più 4 uguale a 0 adesso dobbiamo studiare questa equazione sui numeri reali allora prendiamo la funzione g di a g di x uguale a x cubo più 2x più 4 g primo di x uguale a 3x quadro più 2 che è sempre maggiore di 0 quindi questa funzione cresce sempre essendo un polinomio di grado 3 questo si annulla almeno una volta la condizione che la derivata è sempre positiva ci dice che si annulla esattamente una volta se andiamo a vedere c di meno 1,2 uguale meno 1,2 per il quadrato che fa 1,44 meno 2,4 più 4 se ci fate caso questo è 1,6 questo qua è più grande di 1,6 ma c'è il segno meno quindi questo qui è negativo g di meno 1,1 è uguale a meno 1,1 per 1,21 meno 2,2 più 4 questo è 1,8 questo si vede anche a occhio che è minore di 1,8 col segno meno quindi questo è positivo quindi z2 appartiene a r e z2 possiamo dire che è compreso tra meno 1,2 e meno 1,2 ok? questa è la seconda soluzione e stiamo sempre nel primo caso ok? il secondo caso lo andiamo a fare qua perché è più breve z1 uguale a 0 lo ripropiamo qua quando riguarda il secondo caso abbiamo se b è diverso da 0 lo posso togliere e mi rimane a uguale a meno 1 se a uguale a meno 1 vado a sostituire e qua mi viene meno 2 più 1 meno b quadro uguale meno b quadro più 1 a quadrato e viceversa quindi ricopiando otteniamo a uguale a meno 1 qui abbiamo 8 e 2 da questa parte quindi meno 1 per 2 fa meno 2 meno 2 più 4 uguale meno b alla quarta meno 2 più 4 meno 1 adesso meno 2 più 4 meno 2 più 4 se ne va e viene quindi a uguale a meno 1 via la quarta uguale a 1 quindi viene a uguale a meno 1 b uguale a più o meno le soluzioni reali via la quarta uguale a 1 sono più o meno quindi abbiamo quindi le soluzioni z3 uguale a meno 1 più i e z4 uguale a meno 1 meno i ok adesso se volete potete fare la verifica sostituire queste allora la 0 a 1 è facile viene 0 uguale a 0 anche z2 non è così immediata però potete sostituire meno 1 punto 2 vedere che viene una certa disequazione e sostituire meno 1 punto 1 viene una disequazione opposta e questo dice che tra quei due valori ci sta l'uguaglianza nell'equazione sui numeri reali e poi sostituire questi due valori potete verificare quindi queste sono le quattro soluzioni delle quattro ok e questo riguarda il l'esercizio sui numeri complessi andiamo a fare il limite e questo era un esercizio di difficoltà assolutamente media non era neanche lungo come avete visto cercate di non parlare perché stiamo in registrazione e poi questo ne succede voi dopo potete andare a riguardare con calma la registrazione anche in un momento seguente allora quanto riguarda il limite ricordo la traccia noi avevamo il limite per x che tendeva che tende più infinito abbiamo questo limite qui allora abbiamo il seno di 2x più 1 frasco 4x più 3 per coseno di x più 2 fratto 3x quadro più 4 per logaritmo di cos'è quale 4x quadro 2x più 1 fratto 2x più 3 ora nel numeratore abbiamo tangente x meno 2 fratto 2x quadro più 1 più esponenziale di 2 meno x fratto 2x quadro meno 1 meno coseno di x meno 1 fratto x quadro e dobbiamo andare a fare questo allora riconosciamo che si tratti di una forma di termina questo tende a 0 se 1 di 0 vale 0 questo tende a 0 coseno di 0 vale 1 questo tende a 1 lo ipogliente di 1 vale 0 quindi abbiamo 0 per 1 per 0 e al numeratore abbiamo questo tende a 0 ma il coseno di 0 vale 0 questo tende a 0 ma l'esponenziale di 0 vale 1 e questo tende a 0 ma il coseno di 0 vale 1 quindi 1 meno 1 vale 0 quindi abbiamo un'epogliente di termina del tipo 0 di 0 si tratta quindi di sviluppare usando le formule di mclown le formule di mclown le usiamo nell'infinitesimo 1 su x 1 su x tende a 0 e possiamo usare il formule di mclown allora cominciamo con questo con il denominatore perché il denominatore ci interessano solo i mclown principali in quanto abbiamo solo prodotti quindi abbiamo seno di a quale cambia di evidenza 2x mi viene 1 1 su 2x qua abbiamo 4x quadro mi rimane 1 più 3 su 4x quadro qui viene seno di 1 su 2x che moltiplica 1 più 1 su 2x più o piccolo di 1 su 2x volendo sviluppare il lavoro di mclown in realtà non c'è bisogno quindi chiede se questo perché perché questo qua quando lo giro al numeratore verrà 1 meno 3 su 4x quadro quando andiamo a fare il prodotto mi rimane questo la costante più infinitesimo e più morbido il resto di ordine superiore quindi qua mi viene seno di 1 su 2x più termine di ordine superiore che quando motivo questo viene di ordine 2 e questo viene 1 su 2x più termine di ordine superiore per quanto riguarda il coseno è ancora molto più semplice senza perdere tempo qui l'abbiamo voluto perdere un po' di tempo ma possiamo subito dire che questo era 1 su 2x più termine di ordine superiore ma qui in realtà sappiamo che questo deve avere 1 e quindi questo è 1 più un infinitesimo quindi 1 più piccolo di ordine per quanto riguarda l'ultimo termine è un attimo più complicato qui dobbiamo mettere in evidenza 2x sia sopra che sotto quindi viene 1 più 1 su 2x fratto 1 più 1 su 3x quindi questo è uguale a logaritmo di 2x messo in evidenza sopra e sotto si semplifica quindi viene logaritmo di 1 fratto 1 più 2x meno logaritmo di 1 fratto scusate di 1 più 1 fratto 3x quindi questo viene 1 su 2x meno vediamo un po' scusate qua non è 1 su 3x ma è la 3 mezzi x diciamo che in evidenza il 2 quindi qua è 3 su 2x quindi viene meno 3 su 2x più termini di ordine superiore quindi viene meno 2x più termini di ordine superiore andando quindi a fare il prodotto otteniamo che il nostro denominatore è uguale a 1 su 2x per 1 per meno 1 su x più termini di ordine superiore quindi mi viene meno 1 su 2x quadro più termini di ordine superiore ok quindi posso andare a sostituire tutta questa espressione con meno 1 su 2x quadro più o piccolo di 1 su x quadro ok e quindi il denominatore è stato completamente il denominatore per quanto riguarda il numeratore adesso sappiamo che occorre sviluppare fino all'ordine 2 non è necessario sviluppare oltre perché per il principio di sostituzione di infinitesimi se ottenessimo piccolo di 1 su x quadro fratto questo tenderebbe a 0 invece fino all'ordine 2 dobbiamo sviluppare altrimenti non riusciamo a calcolare l'invento quindi andiamo a fare questo sviluppo abbiamo tangente di x meno 2 fratto 2x quadro più 1 uguale tangente di x per 1 meno 2 su x fratto 2x quadro per 1 più 1 su 2x quadro uguale tangente di 1 su x qua faccio tutti i passaggi 1 meno 2 su x che moltiplica 1 meno 1 su 2 x quadro più termini di ordine superiore al secondo in realtà qua viene tangente di 1 su x per 1 meno 2 su x più termini di ordine superiore per quale motivo ignoro i termini di ordine superiore al primo perché c'è questo 1 su x in evidenza quindi qua mi viene tangente di 1 su 2x meno 1 su squadra più piccolo di 1 su squadra questo sarebbe t t tende a 0 il termine successivo dello sviluppo della tangente nella formula di McClellan è di ordine 3 e quindi finisce il quadrato ok? quindi il pezzo con la tangente abbiamo fatto andiamo a vedere il pezzo con l'esponenziale quindi qua abbiamo l'esponenziale di meno x più 2 fratto 2x quadro meno 1 fate attenzione qui ho riscritto meno x davanti perché è più grande sapete che dovete mettere sempre in evidenza i termini qua abbiamo 1 meno 2 su x mettendo in evidenza meno x qua abbiamo 2x quadro che moltiplica 1 meno 1 su 2x quadro quindi qua abbiamo l'esponenziale di meno 1 su 2x che moltiplica 1 meno 2 su x più termini di ordine superiore al 1 qua è una cosa analoga cioè praticamente quasi la stessa cosa di prima ci cambia un segno ma comunque quello finisce nei termini di ordine 2 lo trascuriamo perché c'è questo termine quindi qua mi viene l'esponenziale di meno 1 su 2x più 1 su x quadro più piccolo più 1 uguale adesso tutto questo lo chiamo t quindi qua ho 1 più t cioè meno 1 su 2x più 1 su x quadro più o piccolo di 1 su x quadro poi devo fare meno t quadro mezzi ma quando faccio t quadro l'unico termine di ordine 2 è il quadrato di questo devo fare meno 1 ottavo e 1 su x quadro quindi quindi qua viene 1 meno 1 su 2x più più x quadro mezzi quindi qua più 1 più 1 ottavo viene più 9 contare e 1 su x quadro più tanti meno 1 fratto x quadro più 1 qua possiamo abbreviare perché questo non è altro che il coseno di 1 su x più o piccolo di 1 termine principale si chiamano centri rapporti termine principali e quindi questo è 1 stavolta meno x quadro mezzi meno 1 su 2 x quadro più o piccolo x quadro ok adesso andiamo a sostituire facciamolo con calma un pezzo da voi prima pezzo la tangente 1 su 2 x meno 1 su x quadro più o piccolo più su x quadro secondo pezzo l'esponenziale ecco il più quindi più 1 meno 1 su 2 x più 9 su 8 x quadro poi il coseno devo cambiare il segno quindi meno 1 più 1 su 2 x quadro e o piccolo di 1 su x quadro la somma di tre volte viene sempre con piccolo meno 1 adesso potete osservare che 1 meno 1 se ne va 1 su 2 x e meno 1 su 2 x se ne va quindi mi rimane da fare questa somma questa qua in ottavi queste sono 9 ottavi queste sono 8 ottavi quindi rimane un ottavo più 4 ottavi rimane 5 ottavi quindi qua al numeratore dopo per fatta la somma possiamo dire che queste sono 5 su 8 x quadro più o piccolo più x quadro a questo punto finiamo il principio di sostituzione di difidenza e abbiamo effettivamente una forma di tipo 0 su 0 di difidenza che sono di ordine 2 5 ottavi fratto meno 1 mezzo fa meno 5 ottavi e questo è il risultato ok quindi abbiamo questo questa situazione qua va bene allora andiamo adesso andiamo a cancellare e andiamo a fare il terzo esercizio ripeto cercate di fare silenzio mi traete beneficio voi stessi terzo esercizio la successione la successione non era difficilissima diciamo l'abbiamo vista parecchie volte una successione di questo tipo nell'esercizio allora la successione a con n è uguale al valore assoluto del coseno di di greco n uguale più 1 fratto n meno 1 sempre valore assoluto elevato a 3 n cubo più 1 fratto n meno 3 allora andiamo a sviluppare il allora normalmente n è un numero naturale andiamo a sviluppare la base allora cominciamo a vedere di greco n quadro più 1 fratto n meno 1 sappiamo come fai dobbiamo sempre mettere in evidenza la quantità più grande sopra il di greco n quadro che è 1 più 1 su di greco n quadro sotto è n 1 meno 1 su n stavolta mi viene di greco n che moltiplica 1 più 1 su di greco n quadro che moltiplica 1 più 1 su n più 1 su n quadro più tenni di ordine superiore al secondo cioè di ordine superiore a 1 su n quadro adesso andiamo a fare la moltiplicazione di greco n per 1 più 1 su n poi qua mi viene 1 su n quadro che moltiplica 1 su di greco più 1 più tenni di ordine superiore al secondo 1 su n quadro più per 1 1 per n quadro per 1 su di greco quindi andando a moltiplicare mi viene n per scusate di greco per n più 1 più 1 su n che moltiplica 1 su di greco fa moltiplicare n per 1 su n quadro fa 1 su n di greco di greco di greco di greco di greco di greco di 1 su n adesso dobbiamo fare il coseno di questa roba qui anzi mettiamoci lentamente per l'assurdo fare il valore di greco di greco di greco per n più 1 per più 1 su n per di greco di greco più 1 più o piccolo di un po' coseno di questa roba poi lo fai con lo stu ma io so che ogni volta che aggiungo trovo il greco all'argomento del coseno il valore del coseno cambia di segno quindi questo è il valore assoluto di meno 1 alla n più 1 per il coseno di 1 su n e di greco più 1 più o piccolo di 1 su n ovviamente il valore assoluto è moltiplicativo il valore assoluto di questo fa 1 quindi qua mi viene il valore assoluto del coseno di questo che posso sviluppare questo è 1 meno di greco più 1 al quadrato fratto 2 n quadro più o piccolo di un po' n quadro a questo punto di quello assoluto lo posso togliere perché questo è quasi 1 quindi questo è 1 meno di greco più 1 al quadrato fratto 2 n quadro naturalmente se n è grande più o piccolo di un po' n quadro e questo è lo sviluppo della base per quanto riguarda diciamo l'esponente lo posso fare qua sopra 3 n cubo più 1 fratto n meno 3 è uguale a 3 n quadro per 1 più o piccolo se volete mettete in evidenza 3 n cubo sopra e n sotto viene 3 n quadro quello che rimane quindi il comportamento di a con n a con n a elevato a b possiamo sempre scrivere come l'esponenziale di b che scrivo direttamente in quella forma e il logaritmo di a 1 meno di greco più al quadrato fratto 2 n quadro più o piccolo più 3 n quadro ok quindi viene scrivo qui esponenziale di 3 n quadro che è qualcosa che tende a 1 per qua mi viene meno di greco più 1 al quadrato fratto 2 n quadro più o piccolo di questo n quadro allora vedete che quando vado a moltiplicare per n quadro e 3 n quadro questo convergia meno 3 di greco più 1 al quadrato mezzi il resto converge a 1 il prodotto converge a quel numero lì e le sponenziali non se ne potete dire quindi questo qua per n che tende a infinito tende a e elevato alla meno 3 di greco più 1 al quadrato fratto e questo è il risultato dell'esercizio ok quindi questo è il risultato della successione adesso adesso non andiamo in ordine in ordine di esercizio ma andiamo in ordine di difficoltà andiamo a fare prima l'integrale e la serie e poi qui andiamo a fare la serie ok allora integrale l'integrale era facile in realtà l'integrale è integrale a meno 1 x infinito e logaritmo di x più 1 fratto x più 2 al quadrato x allora in realtà questo integrale qua diciamo prima aveva valutato la sommabilità a infinito non ci sono problemi questa funzione si comporta come logaritmo x su x quadro e quindi decresce poco meno di 1 su x quadro ma sicuramente di più di 1 su x quadro e quindi la funzione è integrale per x maggiore di 0 questa funzione è positiva quindi non ci sono problemi per x invece è minore di 0 questa funzione è negativa perché questo è positivo e questo è negativo però anche qui non ci sono problemi perché questo per x che tende a meno 1 fa come una costante e sappiamo che x più 1 per x diciamo facendo la sostituzione x più 1 uguale a t diventa t che tende a 0 da destra e sappiamo che il logaritmo di t è integrale diciamo tra 0 e 8 è sommabile tra 0 e 1 quindi questa funzione è sommabile anche se ci mettessi il valore assoluto ecco una cosa che avrei potuto fare diciamo a parte questo esercizio che adesso sviluppiamo vediamo che l'integrale farà 0 però diciamo poi rifacciamo lo stesso esercizio mettendoci un valore assoluto giusto per x ok quello allora comunque la prima cosa che possiamo fare visto che sappiamo che l'integrale è sommabile possiamo fare la sostituzione x più 1 uguale a t e questa mi diventa l'integrale tra 0 e più infinito del logaritmo di t fratto t più 1 al quadrato di x uguale a t ok vi andiamo un po' più semplice adesso a questo punto cosa possiamo fare facciamo l'integrale indefinito l'integrale del logaritmo di t fratto t più 1 al quadrato di t questo è uguale allora integriamo per parti quindi mi viene meno logaritmo t fratto t più 1 integriamo più integrale di 1 fratto t per t quindi ok ok 1 fratto t per t più 1 lo posso scrivere come 1 fratto t meno 1 fratto t più 1 t più 1 meno t per u quindi questo qua lo posso scrivere come meno logaritmo t fratto t più 1 poi l'integrale di questo qua t logaritmo t meno logaritmo di t più la solita costante altità ok allora a questo punto dobbiamo fare questa funzione la chiamiamo f grande di t dobbiamo fare il limite che t che tende a più infinito di f grande di t cioè sostanzialmente qui cosa abbiamo abbiamo f grande di t trascolata infinito a zero ma nel senso del limite allora diciamo chiamiamo f grande di t chiamiamo solo questo pezzo qua la c la mettiamo qua da zero ok c abitri andiamo a fare il limite a infinito a infinito questo da zero chiaramente perché questo è un limite notevole questo è il limite che t tende a più infinito del logaritmo di t fratto t più che fa a differenza di logaritmo di logaritmo del rapporto questo tende a uno e quindi questo tende a zero se invece facciamo il limite e t che tende a zero da destra di f grande di t questo che cos'è? allora questo pezzo stavolta tende a questo tende a zero quindi questo tende a uno logaritmo di uno tende a zero quindi questo pezzo se ne va invece mi rimane il limite per t che tende a zero da destra di logaritmo t che metto in evidenza che moltifica uno meno uno fratto t più uno quindi viene t fratto t più uno adesso questo tende a uno e non mi dà problemi ma t logaritmo t sappiamo che tende a zero e quindi questo tende a zero e quindi di questo integrato vale zero attenzione proviamoci a mettere il valore assoluto proviamoci a mettere il valore assoluto quindi che cosa devo fare? se faccio l'integrato al minimo e più in fine se ci avessi messo il valore assoluto fratto x più 2 al quadrato di x in questo caso non faceva zero non poteva fare zero perché la ruzione è così e allora che cosa faceva? faceva f di t valutato a più infinito e a uno e che tra uno e più infinito la funzione integranda era positiva poi faceva meno f di t valutato a uno e a zero quindi faceva meno due f di uno e di gli altri avevano già valutato che facevano zero a uno questa funzione vale logaritmo di uno vale zero logaritmo di uno vale zero viene meno logaritmo a due e quindi qua viene più due quindi se ci avessi messo il valore assoluto non l'ho messo quindi diciamo è corretto sviluppare l'integrato e dire che fa zero però per vedere che fa zero dovete accoppiare i termini quando andate a fare il limite in maniera opportuna cioè non potete fare trattare questi tre termini separatamente per qualcosa che succede che questo a infinito tende a infinito questo a infinito tende a meno infinito questo a zero da destra tende a meno infinito questo a zero da destra tende a più infinito quindi avete dei dei problemi di forme determinate dovete trattare il tutto insieme quindi questo è il risultato dell'integrato ok quindi questo è un altro esercizio medio le difficoltà erano assolutamente superabili sono rimasti dunque solo la serie e lo studio di funzione per quanto riguarda la serie quando io dico una cosa vale per tutto il tempo non è che il mondo non vale più andiamo a vedere la serie la serie la serie è somma per n che va da zero a più infinito di seno di n di greco terzi per logaritmo di n alla a più 1 fratto n alla beta più 1 fratto radice di n più 3 naturalmente alfa e beta abbiamo detto che sono dei parametri e mi ricordo bene che ho detto che erano posibili vi avevo semplificato un po' la questione va bene quindi non ci sono problemi per la definizione 0 la beta fa 0 0 la fa 0 i parametri sono positivi quindi non abbiamo problemi se possono stare negativi avete dovuto mettere per n che parte da 1 ok va bene allora vi do prima la risposta questa serie converge ma non assolutamente allora come facciamo a vedere questo la prima cosa bisogna andare a vedere seno di n di greco terzi per n naturale oppure 0 insieme di questi valori è 0 radica al 3 e mezzi radica al 3 e mezzi 0 meno radica al 3 e mezzi meno radica al 3 e mezzi e poi si ripetono periodicamente tra periodicità al periodo 6 ok quindi quindi se n è diverso da 3k cioè se non è multiplo di 3 lo lascio scritto n per non ma questo che cosa vuol dire? vuol dire che a con n in valore assoluto è uguale a radica al 3 e mezzi perché o è più radica al 3 e mezzi o meno radica al 3 e mezzi che valore assoluto per radica al 3 e mezzi per logaritmo di n alla alfa più 1 fratto n alla peda più 1 fratto la radica di n altrimenti se n è uguale a 3k a con n in valore assoluto ok? adesso per andare a diciamo scusate qua ci vuole modo assoluto perché se beta è maggiore di alfa questo è negativo va bene allora se io voglio andare a sviluppare questo qua ho un'altra più verocazione se alfa è uguale a beta questo è uguale a questo quindi logaritmo di 1 fa 0 quindi a con n fa 0 e questo è vero sempre quindi se alfa è uguale a beta la serie è la serie nulla quindi alfa uguale beta serie nulla quindi in questo caso la serie converge anche assolutamente ma solo in questo caso andiamo a vedere il caso in cui alfa è diverso da beta allora andiamo a sviluppare qui qua abbiamo logaritmo di n alla alfa più 1 fratto n alla beta più 1 posso scrivere come logaritmo di 1 più n alla meno alfa fratto 1 più n alla meno beta allora questo stavolta tende a 0 perché alfa e beta sono positivi questo è n alla meno alfa e n alla meno beta quindi questo è n alla meno alfa meno n alla meno beta adesso più o piccolo di e qua diciamo dipende più o piccolo di 1 su n alla minimo tra alfa e beta vediamo un po' se è giusto allora uno di questi q2 finisce qua dentro cioè facciamo un esempio supponiamo che alfa sia un terzo e beta se è un mezzo poi viene n alla meno un terzo meno n alla meno un mezzo più o piccolo di n alla meno un terzo quindi praticamente sarebbe questo trascurabile in questo modo quindi quindi in realtà scusate qua dobbiamo ancora differenziare non è vero che non commercio assolutamente dipende da alfa e bene sono dimenticato andavo a memoria mi sono dimenticato ok allora però diciamo in generale qua mi viene a con n viene radica al tre e meno radica al tre diviso due poi viene per n alla meno minimo tra alfa e beta quindi a con n si comporta come quando dico quando metto il ciclo un flesso vuol dire che a con n in valore assoluto fratto questo tende a 1 fratto qua viene n alla mezzo allora questo si comporta come n alla mezzo ok quindi qua cosa mi viene mi viene radica al tre mezzo per n alla meno alla meno un mezzo meno il minimo tra altre allora vedete subito che ah no scusate che qua ho sbagliato tutto qua perché perché mi sono dimenticato n alla alfa meno t non ho guardato la correzione chiedo subito allora torniamo indietro e corregiamo questo pezzetto qua non era 1 perché n alla alfa non è uguale a n alla mezzo allora qua abbiamo allora separiamolo proprio guardate logaritmo di n alla alfa più 1 meno logaritmo di n alla mezzo più allora questo è uguale a logaritmo di n alla alfa più logaritmo di 1 più 1 su n alla alfa meno logaritmo di n alla beta meno logaritmo di 1 più 1 su n alla beta allora adesso a questo punto uno su n all'altro non ci interessano più questi qua perché ci sono dei termini più importanti quali sono i termini più importanti questo è alfa logaritmo n questo è beta logaritmo quindi questo è uguale ad alfa meno beta per logaritmo n per 1 più po' piccolino quindi qui abbiamo radica 3 mezzi per alfa meno beta in modo assoluto per logaritmo n fratto n alla mezzo quindi effettivamente come avevo detto prima non avevo detto mi ricordavo di aver fatto la correzione quindi effettivamente che cosa succede? questo numero è diverso da 0 questo è radica di altri mezzi questo è n alla un mezzo e questo è maggiore di 1 per n grazie quindi questo qua mi dice che la somma di lagone n diverge quindi effettivamente se alfa è diverso da beta se alfa è diverso da beta la serie è nulla ma se alfa è diverso da beta la serie diverge in valore assoluto quindi non converge assolutamente andiamo invece a vedere che converge semplicemente ok? allora per far questo per far questo bisogna fare uno sviluppo fatto un po' meglio allora cerchiamo di ricoverare un po' di spazio correndo ma l'assunto non mi serve più questo invece mi serve ancora allora qui abbiamo qui abbiamo questa la possiamo scrivere così come somma da 0 a infinito seno di n di greco terzi per logaritmo di n all'altro più di 1 fratto radice di n più 3 meno somma da 0 a infinito seno di n di greco terzi logaritmo di n alla beta più 1 fratto la radice di n più 3 ok? l'ho spezzato in due serie perché sono assolutamente a parte diciamo qua l'esponente si chiama alpha qua l'esponente si chiama beta ma a parte il nome dell'esponente le due serie sono assolutamente lo stesso tipo quindi se converge uno converge due l'altro quindi basta dimostrare che ne convergono sappiamo già che assolutamente non convergono non convergono anche se lo fate da soli perché ragionamento è assolutamente nello stesso quindi alpha logaritmo n su a per far vedere che convergono semplicemente raggruppiamo la serie la serie a gruppi di 6 termini cioè cosa facciamo? spiego bene se vi ricordate seno di m pi greco terzi assumeva questi valori 0 radica 3 mezzi radica 3 mezzi 0 meno radica 3 mezzi meno radica 3 mezzi e poi si ripetevano periodicamente allora un termine singolo comunque tende a 0 questo l'avevamo fatto prima perché comunque questo si comporta come un logaritmo n questo si comporta una radice di n quindi il rapporto tende a 0 questo oscilla tra due costanti quindi va l'assurdo il numero uguale di una costante meno uguale di 1 e quindi sicuramente i termini soddisfano la condizione necessaria per la convergenza della serie quando i termini tendono a 0 se raggruppiamo un numero finito di termini alla volta se la serie raggruppata converge anche la serie originale converge questo perché quando faccio i gruppi a 6 a 6 le somme parziali saranno le somme fino a un multiplo di 6 per ottenere una somma parziale qualunque devi fare per esempio se voglio ottenere la somma parziale di indice 23 faccio la somma parziale fino a 18 che è un multiplo di 6 e poi ci aggiungo 5 termini oppure faccio la somma parziale fino a 24 e ci do il termine se convergono s6n allora converge anche sn per quale motivo perché io so che uno di questi termini tende a 0 anche se ne prendo 6 di questi termini tendono a 0 e quindi la differenza tra sn e s6n tende a 0 quindi la serie converge quindi mi basta dimostrare che converge la serie raggruppata a gruppi di 6 termini alla volta quando vado a raggruppare a gruppi di 6 termini alla volta inoltre ci sono due termini che valgono a 0 perché questo coefficiente qua vale 0 poi ci sono altri 4 termini che voglio raggruppare a 2 a 2 cioè nel senso se vi faccio vedere che il termine corrispondente a quest'indice il termine corrispondente a quest'indice quando risommo mi danno il termine in una serie assolutamente convergente poi la stessa cosa va da qua ok quindi tra questo e questo indice ci sta una differenza di 3 quindi io cosa devo fare non devo fare altro che radica al 3 mezzi per logaritmo di n alla alfa più 1 fratto radice di n più 3 meno radica al 3 mezzi per logaritmo di n più 3 alla alfa più 1 fratto radice di n più 6 questo è un termine di un certo n e questo è il termine con diciamo n diverso da 3k non è n corrispondente a questo a un indice del tipo veramente 6k più 1 6k più 2 diciamo se n è uguale a 6k più 1 o se n è uguale a 6k più 2 allora questo è a con n e questo è a con n quindi questo è 6k più 1 il termine di indice 6k più 1 e questo è il termine di indice 6k più 2 questo è il termine di 6k più 5 sono due metà in questo gruppo dei 6 termini allora 2 termini sono uguali a 0 2 sono uguali a questo per n uguale a 6k più 1 e 2 sono uguali a questo per n uguale a 6k più 2 a me diciamo non interessa a sostituire 6k più 1 e 6k più 2 basta far vedere che quando vado a fare questa differenza questo si comporta come il termine di una serie assolutamente di una serie dopo di che o n uguale a 6k più 1 o n uguale a 6k più 2 non fa nulla i due termini sommari mi danno come somma un termine che mi danno una serie assolutamente di una serie e quindi la serie è raggruppata come andiamo a fare questa differenza quindi devo sviluppare in questo caso è utile la registrazione perché io purtroppo devo andare con una certa però ovviamente quando diciamo state a casa questo lo potete mandare avanti e indietro e rivedere quando lo potete fare quindi adesso io devo andare a fare questa differenza per andare a fare questa differenza vado a sviluppare qui c'è radical 3 mezzi in evidenza faccio un'unica frazione radical n più 3 per radical n più 6 qua che n radical n più 6 per logaritmo di n alla più 1 meno radical n più 3 per logaritmo di n più 3 alla più 1 questa è la differenza ok allora vedete che questo si comporta come n che radice qua viene n più 3 per n più 6 per n uguale quindi questa è una costante su n quindi quello che mi interessa è che questa differenza al numeratore che adesso vado a riscrivere isolata questa differenza deve andare a 0 sostanzialmente più di 1 sul logaritmo n poi vediamo a seconda di come va a 0 se la telecommergia quindi andiamo a fare solo questa differenza quindi radice di n più 3 logaritmo di n più 3 all'alpha più 1 adesso andiamo a fare separatamente in questo lo posso cancellare allora radice di n più 6 uguale radice di n che moltissimo la radice di 1 più 6 su n uguale radice di n per 1 più 3 su n più o piccolo di 1 su n cominciamo con questo ok andiamo a vedere logaritmo di n all'alpha più 1 è uguale logaritmo di n all'alpha più logaritmo di 1 più 1 su n all'alpha uguale alba logaritmo n più 1 su n all'alpha più o piccolo più su n alla vediamo un po' se vediamo qua bisogna stare un attimo attenti lasciamolo lasciamolo scritto così alfa logaritmo n più logaritmo di 1 più 1 su n all'alpha ok andiamo a fare l'altro radice di n più 3 questo è uguale a radice di n per come prima per radice di 1 più 3 su 2 su n che è uguale a radice di n per 1 più 3 su 2 n su 1 vincolo invece logaritmo di n più 3 all'alpha più 1 è uguale al logaritmo di n all'alpha più logaritmo di n più 3 fratto n all'alpha più 1 su n all'alpha ho diviso per n all'alpha sia qua che qua adesso andiamo a fare la nostra moltiplicazione qui abbiamo una radice di n che sta in evidenza tutte le varie quindi questo qui questa quantità la chiamiamo a allora a è uguale a radice di n che moltiplica abbiamo una bella parentesi qui abbiamo 1 più 3 su n più 1 più 1 su n che moltiplica alfa logaritmo n più logaritmo di 1 più 1 su n all'alpha più meno 1 più 3 su n più logaritmo di 1 su n che moltiplica alfa logaritmo n più quello lo scriviamo come lo stanno cioè logaritmo di n più 3 su n all'alpha più 1 su n all'alpha allora logaritmo più 1 su 5 e poi devo dire uguale ricopio a 4 allora facciamo cerchiamo di scrivere tutti i termini allora scrivo tutti i termini innanzitutto ci sta la dicenda di n fuori poi abbiamo alfa logaritmo n più 3 alfa logaritmo n su n più o piccolo di logaritmo n su n poi ci abbiamo più 1 su n più logaritmo più 1 più 1 più 1 su n al questo lasciamo star per adesso ok il resto siccome questo tende a 0 il resto è un piccolino su n e finisce la giancia alla strada dice poi abbiamo meno alfa logaritmo n meno 3 alfa mezzi logaritmo n su n più o piccolo di logaritmo n su n meno logaritmo di questo di n più 3 fratto n alla alfa più 1 su n alla e poi devo chiudere la valentina ora intanto questo se ne ha quindi fatemi cancellare il tutto allora fatemi cancellare il tutto quindi qua mi viene radice di n che moltiplica 3 alfa mezzi logaritmo n su n poi mi viene più o piccolo di logaritmo n su n più adesso dobbiamo andare a fare questa questa differenza qui cosa abbiamo abbiamo logaritmo di a del rapporto la differenza del logaritmo è un logaritmo del rapporto quindi qua posso scrivere logaritmo di n all'alpha più 1 fa fratto n più 3 all'alpha più 1 ho rimontiplicato per n all'alpha sia il numeratore che il numeratore adesso andiamo a sviluppare questo qui abbiamo vediamo un po' allora mi conveniva lasciare logaritmo di 1 più 1 su n all'alpha meno logaritmo di n più 3 fratto n all'alpha più 1 su n all'alpha ok adesso il primo pezzo lo lascio stare il secondo pezzo lo sviluppo quindi qui ho meno logaritmo questo è 1 più 3 su n 1 più 3 su n all'alpha fa 1 più alpha per 3 diviso n più 1 su n all'alpha che stava fuori più piccolo di 1 su n ok cioè sto sviluppando soltanto questa quantità qua questo è 1 più 3 su n 1 più 3 su n all'alpha lo sviluppo di 1 più 1 infinitesimo all'alpha 1 più t all'alpha fa 1 più alfa t più o piccolo di t ma t era 3 su n quindi o piccolo più 6 e questo qua lo lascio allora vedete che tra questo argomento e questo la differenza è alfa su 3 su n quindi quando vado a fare questa differenza ricontinuo da questa parte posso dire che stavolta io logaritmo di 1 più 1 su n all'alpha meno logaritmo di 1 più 1 su n all'alpha è più logaritmo di 1 più 1 su n all'alpha più alfa 3 alfa su n più piccolo di 1 su n fratto 1 più 1 su n all'alpha ok? allora quindi questo qui che cos'è? solo questo pezzo qui questo cosa ho fatto? nel termine nel secondo termine ho messo in evidenza 1 più su n all'alpha solo questo secondo termine ha guardo logaritmo di questo fratto questo fa 1 poi abbiamo 3 alfa 3 alfa fratto 1 più 1 su n all'alpha più piccolo di 1 su n allora se andiamo a vedere il termine principale 3 alfa su n se andiamo a vedere il termine principale 3 alfa su n fratto 1 e 3 alfa su n tutti gli altri termini sono di ordine superi quindi quando vado a fare questa differenza quanto viene viene radice di n noi abbiamo 3 alfa menzi logaritmo di n su n questo termine qua che sarebbe questa differenza qua viene dell'ordine di 1 su n ma essendo dell'ordine di 1 su n va a finire qua dentro perché questo è il logaritmo di n su n che è più grande quindi qua viene più o più logaritmo n su n ok questa era la quantità a quindi a con n che era questo a con n a con n viene radica a 3 mezzi a a era il numeratore quindi qua mi viene 3 alfa mezzi per radice di n per logaritmo di n su n al denominatore mi viene n a con n viene viene così adesso ci fate caso poi avete radice di n franto n franto n fa n alla 3 mezzi il logaritmo sopra non gli dà nessun passire perché il logaritmo cresce meno per esempio di n alla 4 se fa 3 e mezzi meno 4 rimane 5 a 4 e questo è il termine generico di una serie assolutamente i termini successivi lì era scuro perché sono di ordine superiore rispetto a questo quindi a con n è dallo stesso ordine di questo quindi a con n è diciamo il termine assolutamente come il genere qua in realtà non ne abbiamo fatto tutti e 4 erano 6 2 facevano 0 2 fanno questo e gli altri due faranno la stessa cosa semplicemente in un caso n sarà 6k più 1 in un altro caso n sarà 6k più 1 quindi siccome sono dello stesso tipo diciamo la serie raggruppata il termine di serie con torno un attimo indietro e spiego perché qua ho dovuto lasciare ho dovuto fare questo casino perché io ho dovuto fare questo macello perché se io sviluppo direttamente allora logaritmo di 1 più n all'a di 1 su n all'a mettiamo che a sia 0,1 allora se io faccio questo sviluppo lo faccio qua dentro logaritmo di 1 più 1 su n all'a comincia con 1 su n all'a più di 1 su n all'a e questo non mi basta perché qua c'ho una radice di n fuori e sotto c'ho solo n quindi radice di n fratto n fa n all'a mese quando ci vado a moltiplicare 1 su n all'a se l'a è piccolo non ci arriva 1 su n io devo arrivare a più di 1 su n quindi non posso fare direttamente lo sviluppo almeno dovrei fare tanti termini fino ad arrivare a un esponente maggiore di 1 ma non lo posso fare perché non so quante altre però qui devo fare una cosa più fullback quindi questo è un esercizio difficile quindi se non avete altri 6 c'è altri 5 di 1 che cosa devo fare devo tenere presente che quando vado a fare questa differenza cioè questa differenza ha i due argomenti questo è un argomento l'altro argomento è lo stesso cioè 1 più questo più qualcosa che va dall'ordine di 1 su n allora quando se l'argomento fosse lo stesso la differenza dei logaritmi farebbe 0 siccome uno dei due argomenti vale di una quantità proporzionale a 1 su n la differenza alla fine si vede che se l'ordine di 1 su n quindi quello che conta non è se l'argomento è 1 o 1 più 1 conta la differenza tra diciamo tra il numeratore e il denominatore la differenza dell'ordine di 1 su n e quindi il logaritmo del racconto dell'ordine di 1 che mi permette di trascurarlo perché io in questa differenza già l'ho trascurato l'ordine di 1 e questo conclude la serie ovviamente questo è un esercizio che si dice mentre invece la parte per vedere che la serie converggeva la struttura è la più facile quindi questo conclude la serie diciamo che in questo caso per esempio anche in questo caso l'administrazione aiuta molto perché uno la spiegazione se la vuoi andare a rivedere quante volte vuole se uno vuole capire l'esercizio poi se uno dice va bene ma danno posso passare lo stesso facendo gli altri esercizi va bene va l'importante è che andiamo invece alla funzione che è l'ultimo esercizio la funzione la funzione è f di x uguale radice di sguardo meno uno cioè l'espotenziale x più fratto x meno uno allora quello che sappiamo noi è che il campo di esistenza è da meno infinito vado fino a meno uno compreso poi da uno a più infinito però uno è escluso e che qua c'è uno metto il meno del miniatore tra i valori compresi all'interno diciamo ok adesso andiamo a fare ad ambozzare questo è questo è meno la prima cosa prima cosa da fare abbiamo detto è facciamo lo sviluppo facciamo i limiti per innanzitutto questa funzione dove esiste è sempre maggiore o uguale di zero in realtà in maggiore e positiva può essere zero solo quando questo è uguale a zero cioè il meno uno questo è un esponziato sempre positivo quindi la funzione è positiva poi la prima cosa da fare abbiamo detto è lo sviluppo della funzione il limite della funzione per x che tende agli estremi nel campo di esistenza quindi a più infinito a meno infinito a meno uno da sinistra e a uno da destra in meno uno non ci sta nessun problema la funzione esiste e vale zero la funzione è continua non ha problema invece cominciamo a vedere che per x che tende a più o meno infinito f di x a che cosa è uguale? allora qua metto in evidenza però l'assurdo di x qua mi rimane la radice di uno meno uno sui quadro qua mi rimane l'esponenziale di uno più uno sui quadro fratto uno meno uno di x quindi questo ciò è uguale a qua devo fare l'assurdo di x qua mi basta sviluppare fino all'ordine 2 quindi qua mi viene uno meno uno sui due x quadro più o piccolo di uno sui quadro poi qua mi viene più per esponenziale di uno più uno su x che moltiplica uno più uno su x più uno su x quadro io ho visto più uno su x quadro ok che è questa variante non 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 più tre questa chiude questa va bene quindi qua viene valore sui x che moltiplica uno meno uno su due x quadro più o piccolo di x quadro per esponenziale di uno più due sui x e poi abbiamo pure due sui quadro uno sui quadro più sui quadro fa due sui quadro più o piccolo di uno sui quadro uguale continuo qua tanto che sembra al stesso sviluppo che moltiplica uno meno uno su due x uguale più piccolo più t quadro che moltiplica uno più due sui x più due sui quadro più adesso quando questo è t quando faccio t quadro mezzo mi viene un altro due sui quadro quindi qua viene 4 sui quadro quindi quando faccio la moltimazione qua viene valore su x e moltiplica uno più due sui x poi qua viene 4 sui quadro meno uno sui quadro viene più 7 sui quadro più o di più meno quadro guardate controllare non guardate di sì più 7 questo cosa mi dice però attenzione qua c'era c'era l'esponenziale di 1 ok quindi qua mi manca una e devo fare l'esponenziale di questo questo che ho sviluppato è l'esponenziale solo di questo questo è t e devo fare allora questo è uguale quindi ripeto quando arrivo qua questa è l'esponenziale di 1 più t l'esponenziale di 1 più t è uguale l'esponenziale di 1 per l'esponenziale di t l'esponenziale di 1 fa i quindi devo portare una e per l'esponenziale di t che tende a 0 adesso posso applicare le clavine e mi viene 1 più quindi qua la e la devo riscrivere quindi questa è uguale allora questo è uguale ad e x più 2 e più 7e su 2x più o piccole 1 su x questo 6x tende a più e invece meno e x meno qua è a 2 meno 2 a meno 7e su 2x più o piccole 1 su x per x e tende a meno 2 allora quindi qua abbiamo due asintoli allora come vedete un asintolo è e x più 2 quindi vabbè io non faccio in scala facciamo che questo è e questo è 2e e quindi in uno delle serie di e più o meno l'asintolo sarà questa ripeto non è in scala questo è 1 e sulla scala delle y sono queste e quindi è un po' schiacciato siccome l'asintolo la funzione ci si affoggia da sopra perché la prima connessione vedete qua è positiva questo vuol dire che il gradio della mia funzione per x che fa più definito è più o meno di questo a poi abbiamo meno e x meno 2 quindi meno e meno 2 e stavolta abbiamo un'altra asintolo che fa più o meno così se vogliamo più o meno rispettare in scala che abbiamo in posto a ok e qui anche qui a questo asintolo la connessione è positiva perché x va a meno infinito che negativo con meno davanti anche qui si appoggia alla sicurezza sopra ok allora andiamo a vedere come quali sono i limiti invece in meno 1 abbiamo detto la funzione vale 0 e in 1 la funzione quanto vale quando x tende a 1 da destra questo tende a più infinito l'esponenziale va più infinito questo tende a 0 però questo è un limite a questi due asintoli qui deve arrivare a 0 quindi come può arrivare a 0 può arrivare a 0 così può arrivare a 0 in qualche altro modo per esempio vedremo poi come ci arriva e qua io mi immagino la funzione faccia così mi immagino poi potrebbe anche oscillare ma questo però non lo sappiamo in assenza di informazioni vi provendete sempre per il grano più semplice allora per fare adesso questo studio completare lo studio dobbiamo fare arrivata qui quando andiamo a fare la derivata prima scopriamo che la derivata prima è uguale a l'esponenziale di x più 1 fratto x e meno fratto facciamo un passaggio almeno un passaggio di più allora questo moltiplica devo fare la derivata di questo quindi la derivata di questo è 1 fratto trot è la radice per la derivata di questo che fa 2x quindi 2 2 se ne manca poi ho più radice di x quadro meno 1 che moltiplica la derivata di quello che è l'esponenziale stesso che si ha già messo in evidenza per la derivata di questo questo è 1 più 2 su x meno 1 la derivata di x meno 1 è meno 2 fratto x meno al quadrato e quindi viene così uguale mettendo in evidenza la radice di x quadro più 1 al denominatore qua mi viene esponenziale di x più 1 fratto x meno 1 fratto la radice di x quadro meno 1 qua poi mi viene un x quadro meno 1 al quadrato al denominatore e poi si fa il punto e mi viene x meno 1 che moltiplica x quadro meno 3 x meno 2 quindi come vedete allora il punto 1 non ci dà problemi il punto 1 non appartiene al dominio ok è vero che qua vale 0 ma non fa niente ne abbiamo già visto come se fa il limite qua se fate il limite la derivata prima anche la derivata prima non è finita per forza ok poteva andare infinito in altro modo ma qua si vede che anche la derivata prima se fate il limite non è finito quindi il grafico viene confermato che è così adesso se andate a fare le radici di x quadro meno 3x meno 2 uguale a 0 l'unico che si può annulare è questo qua viene x uguale 3 meno più la radice di 17 fratto 2 che non è raggiunto quindi 3 meno più la radice 17 fratto 2 ora però 3 meno più la radice 17 fratto 2 la radice 17 è 4 e qualcosa quindi quando faccio 3 meno la radice 17 fratto 2 capita qua in mezzo e non ce ne importa la 3 invece più la radice 17 fratto 2 è un po' più di 7 mezzi quindi che vuol dire vuol dire che c'è un limite come ci aspettavamo qui invece la funzione scende però se adesso faccio il limite in 1 in meno 1 da sinistra in meno 1 da sinistra che cosa succede? che la mia funzione questa qua vale 1 il meno 1 è espansiale 0 che vale 1 poi qua c'è un x quadro meno 1 è un x meno 1 per x più 1 un x meno 1 si semplifica ma un altro x meno 1 rimane al denominatore quindi ci sono più x meno 1 al denominatore quindi questa roba qui tende a spade 1 tende a meno infinito perché tende a meno infinito questo è positivo questo è positivo per x che tende a scusate ci sono x meno 1 non ci interessa ci interessa x più 1 e qua non c'è nel punto meno 1 questo vale 1 più 3 meno 2 quindi anche questo è uguale no questo vale 1 più 3 meno 2 che è diverso da 0 qui infatti la dice ci sono due quindi nel punto meno 1 questo è positivo questo è negativo questo è positivo questo è positivo però tende a 0 il denominatore quindi il tutto tende a meno infinito che vuol dire che qua la derivata è la derivata a sinistra non c'è perché la funzione arriva con la tangente verticale adesso se la derivata io qua accendo se lo andate a fare sul calcolatore il graffio si vede malappena vedete garantire quindi se qua la derivata diciamo sta arrivando con la tangente verticale perché la derivata sta divergendo a meno infinito diciamo l'unica l'unico modo per giustificare questo graffio è fare una cosa che è allora per verificarlo se andate a fare la derivata seconda la derivata seconda si fa facilmente la derivata seconda viene con l'esponenziale di prima x più 1 fratto x meno 1 fratto stavolta viene x meno 1 al quadrato per s quadro meno 1 alla tre mezzi e poi viene 7x quadro più 10x meno 1 quindi a parte questi e come al solito a parte il fatto che si annullano in 1 e meno 1 dove ovviamente anche la derivata seconda va diciamo diverge e a a parte quello diciamo la derivata seconda si annulla soltanto in due punti questi due punti sono però diciamo questo pezzo della derivata seconda si annulla in due punti questi due punti le radici sono quindi questa è una x 1 2 e questa è x 3 4 quella è la derivata seconda meno 5 meno più la radice di 32 fratto 7 ora fate attenzione perché quella col più siccome questa è tra 5 e 6 capita tra meno 1 quella invece con il meno effettivamente ci sta diciamo sta nel nostro quindi effettivamente questa derivata seconda si annulla per x uguale circa tra meno 10 settimi e meno 11 settimi e meno 10 settimi quindi che vuol dire che in quel punto diciamo quello col meno interessa ci sta così come giustificato dalla figura ci deve stare con questo perché qua la funzione se andate a vedere a sinistra di quel punto è commessa e a destra di quel punto è contro e quindi vedete che il graffio è molto meno pronunciato di questo sembra quasi dritto perché mi vede tutto molto schiacciato perché ho scelto la scala qua uguale e qua uguale quindi questo è per evidenziare un po' di tutto qual è il graffio e con questo siamo riusciti a studiare anche la derivata seconda quindi andiamo a dire anche il flesso va bene quindi la correzione di analisi 1 è finita e quando riguarda i risultati vi ripeto se ne parla per me io voglio grazie 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 ok allora correzione quindi analisi matematica 2 primo esercizio avevamo il sistema lineare di un esercizio di venire il parametro lambda lambda x meno 2y più lambda z uguale 2 lambda x più y meno lambda z uguale di 1 2 lambda x meno y meno z uguale meno 2 lambda va bene è inutile fare i conti con i standard lo facciamo con la regola di Graham la porta determinante la x viene meno 4 lambda 4 meno lambda più 2 fratto lambda 4 meno 2 lambda meno 2 la x contiene meno 6 lambda più più 3 lambda fratto lambda 4 più meno 2 lambda meno 2 e la z viene meno 6 lambda 4 meno 3 lambda fratto naturalmente lambda deve essere diverso da 1 meno più radice di 3 radice di allora vediamo un po' 1 1 meno più radice di 3 perché viene ridotta 1 guardate di 3 ok per questi valori non ci sono soluzioni perché quando lambda è uguale a uno di questi valori qua basta osservare per esempio la z allora questo è determinante di a questo è determinante di un minore della matrice completa questo determinante per uno di quei valori è sicuramente diverso a 0 perché questo si annulla soltanto per valori razionali perché mettete una lambda in evidenza e quindi questo diventa lambda per l'equazione di primo grado non si può annullare quel valore quindi per Kramer per quei valori di lambda non ci sono soluzioni per verificare che queste siano le soluzioni fate solo lo stecchietto lambda x x non z e invece di sostituire la dm che non è infinita e più invece fate verificare per alcuni valori di lambda per esempio per 0 non 1 e 1 per 0 qua se andate a vedere vi viene meno 1 0 0 e funziona cioè che se l'angolo è uguale a 0 qua viene 0 0 0 0 qua viene meno 1 più 0 più 0 uguale a meno 1 0 più 0 più 0 uguale a 0 funziona per l'angolo uguale a 1 viene 1 1 3 e funziona perché qua è 1 meno 2 più 3 che fa 2 1 più 1 meno 3 che fa meno 1 2 meno 1 meno 3 che fa meno 1 quindi va funziona e per lambda uguale a meno 1 viene meno 1 3 meno 3 allora vediamo un po' per lambda uguale a meno 1 meno 1 per meno 1 fa 1 meno 6 più 3 allora più 1 meno 6 che fa meno 5 più 3 fa meno 2 e fa 1 poi qua abbiamo meno 1 più 3 meno meno 1 che è così quindi meno 3 e fa meno 1 che è 1 poi qua abbiamo più 2 meno 3 più 3 che fa più 2 che funziona una volta verificato questi 3 valori va bene la probabilità di aver sbagliato è praticamente ridotto a 0 ok quindi il primo esercizio era questo qua naturalmente chi l'ha fatto bene ha preso il punteggio interno chi ha fatto 1 e dopo la presa 0.7 e chi ha fatto più di un errore la presa 0.4 diciamo più di un errore però facendo almeno un baglio di terminati giù quindi il primo esercizio è il resto che è andato e quando riguarda il secondo esercizio il tutto era molto semplice quindi qualcuno diciamo più di uno l'hanno fatto bene però spiegando del tempo in effetti e nessuno si è accorto che si potrebbe accorciare di nuovo perché una retta è tale forma paramentale cioè è 1 0 0 più lambda volte 1 meno 1 a pari di lambda paramentale r la seconda retta r è data la retta di x y z pari che abbiamo il sistema 2x meno y più 3 z uguale 2 x più x meno z uguale 1 allora se sommate queste due opzioni vedete subito che x deve essere uguale a 1 quindi abbiamo x uguale a 1 e se x è uguale a 1 y viene uguale a 3 0 sostituendo e poi rimane il sistema uguale a 3 quindi il nostro sistema è uguale a questo quindi che vuol dire che la nostra retta r la posso scrivere come 1 0 0 più mu 0 3 ok? quindi perché diciamo 1 0 0 è una soluzione particolare invece la soluzione dell'equazione già si vede da qua no? x uguale 1 x uguale a 3 z z uguale 0 cioè questo vettore lo potete scrivere come 1 0 0 più z 0 0 3 0 chiamate 1 è fatto oh quando arrivate qua hai definito perché per un caso soltubito vi è venuto si vede subito che il punto da cui si parte è lo stesso e quindi le direzioni sono incidenti come vedete i vettori direttori diciamo le direzioni della retta sono diverse quindi le rette sono un po' coincidenti quindi passano per lo stesso punto c'è una direzione di retta sono incidenti ma non coincidenti quindi stanno e i punti di minima istante sono questi 1 0 0 1 0 0 lo stesso punto che si incrociano quindi non avete bisogno di fare il resto chiaro la seconda parte dell'esercizio non c'è la visione di svolta e la svolta lo stesso a rinnovato che qualcuno che diciamo ha fatto l'esercizio in maniera di esercizio in genere io lo faccio imponendo che diciamo cercando i punti tali che la differenza sia ortogonale alle due direzioni ma si può fare in altro modo soltanto che chi ha trovato che la distanza è uguale a 0 però non mi ha detto non mi ha detto qual è il punto di diciamo dove le rette si incrociano quindi vabbè ho tolto qualcosa insomma ho preso 0 8 probabilmente invece che qui ok andiamo a vedere il terzo esercizio il terzo esercizio allora abbiamo 1 è sospenda di 1 0 1 1 meno 1 1 meno 1 meno 9 e v è sospenda di 1 2 0 meno 1 meno 1 meno 1 meno 0 meno 1 meno 1 meno 1 meno 1 meno 1 meno 1 uguale gamma 1 2 0 meno 1 più 3 meno 1 meno 1 meno 1 meno 1 meno 3 e andiamo a scrivere il sistema ora noi abbiamo alfa meno beta uguale gamma meno 3 poi abbiamo beta uguale 2 gamma meno 3 quindi poi abbiamo alfa meno beta uguale 0 e poi abbiamo alfa uguale meno gamma meno delta qua vedete che alfa deve essere uguale a beta e quindi e quindi poi qua se sommate se alfa uguale a beta quindi trovate gamma uguale a delta perché qua alfa meno beta è fatto 0 quindi poi trovate beta uguale a 2 gamma meno delta più uguale a delta e qua se andate a sostituire trovate 2 beta uguale a 2 delta quindi di nuovo trovate beta uguale a delta quindi questa qua la potete togliere perché non serve quindi trovate alfa uguale a beta uguale a delta uguale a gamma sono tutti uguali essendo tutti uguali i coefficienti di proporzionalità non so scegliere io scelgo uno quindi si tratta di fare la somma di questi due vettori la somma di questi due vettori allora posso dire che un intersecato v questa è la condizione che un vettore è fatta adesso un intersecato v un intersecato v è generato da per esempio la somma di questi due vettori sono così questi due vettori è 0,1 0 questo è un intersecato v è lo spend il fatto generato da questi due vettori adesso per fare la base di 1 mi conviene formalizzare questo vettore rispetto a questo quindi devo fare 1,0,1,1 meno il prodotto scalare 1,0,1,2 con 0,1,0,2 fratto il prodotto scalare questo con se stesso di fa 5 1 al quadrato di 2 quadrato fa 5 per 0,1,0,2 questo è proporzionale e ha lo motivio di 8 per 5 quindi 5,0,5,5 meno questo prodotto fa 0,0,0 più 2 fa 2 quindi due volte questo fa 0,2,0,4 quando ho la strada di prezzo fa 5 meno 2 5,1 quindi posso dire quindi posso dire di 1 è uguale lo span di 5 meno 2 5,1 e di 0,1,0 ok per controllo se uno vuole controllare siccome questo quando faccio un ultimo di questo viene sempre 0 per generare meno 2 devo fare meno 2 volte questo quindi devo fare meno 2 volte questo più 3 volte questo se fate conto 3 volte questo più 2 volte questo fa 3 meno 2 fa 5 0 meno 2 fa meno 2 3 meno 2 meno 2 fa 5 3 meno 2 fa 1 quindi viene esattamente quindi questo qui effettivamente appartiene a un questi due vettori sono ortogonali perché viene 0 meno 2 volte 0 più 2 fa 0 quindi questi due vettori sono a base ortogonale di 1 e quanto riguarda v invece se vogliamo trovare la base ortogonale prendiamo sempre 0,1,0,2 e ci andiamo in mente direttamente 1 più 0 meno 1 perché? perché questo è ortogonale fate il prodotto 0 più 2 più 0 meno 2 fa 0 ma non solo questo qua siete fortunati che è ortogonale rispetto a questo perché se fate 5 meno 4 più 0 meno 1 pure fa 0 e adesso la base ortogonale di 1 più v è facilmente data mettendo insieme questi direttori 5 meno 2 5 1 0 1 0 2 e 1 2 0 meno 1 adesso andiamo a fare un punto ortogonale allora imponendo la posizione di ortogonale da questi due vettori si trova facilmente e questo questo è generato da 5 meno 2 meno 6 1 voi fate il sistema io controllo direttamente che sia vero perché allora qua abbiamo 25 più 4 fa 29 meno 30 più 1 fa 0 qua abbiamo 0 meno 2 più 0 più 2 più 0 quindi questo è ortogonale adesso voglio fare la base ortogonale di 1 beh non ho in realtà ho finito perché la base scusate è ortogonale di u ortogonale mi basta prendere un altro vettore in un ortogonale ma questi generavano un u questo sta in ortogonale ed è ortogonale a questo quindi dividio questo quindi faccio 5 meno 2 meno 6 1 e 1 2 0 meno 1 allo stesso modo se voglio fare la base ortogonale di v basta farlo spend di 5 meno 2 6 meno 6 1 e 5 2 meno 2 5 1 perché questo è ortogonale a questi due che generavano v quindi sta in u ortogonale ed è ortogonale rispetto a questo quindi basta vedere queste altre se voglio una base di u intersecato u ortogonale prendo tutte e 3 cioè questo questo e questo ottengo la base di quindi u intersecato u ortogonale una base ortogonale ce ne stanno tante ecco 5 meno 2 meno 6 1 5 meno 2 5 1 e poi 1 2 0 fine dell'esercizio quindi anche questo era capitato un mezzo regalo che accorciava i più renti dell'esercizio quindi abbiamo effettivamente riscritto delle basi ortogonali di u v intersecato b u e l'or quindi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo adesso andiamo a fare l'esercizio numero 4 la conga per lo studio dell'anomica andiamo a scrivere le equazioni andiamo a scrivere l'equazione l'equazione è 5x quadro meno x quadro più 8 x y più 4x meno 6y meno 1 uguale a 0 1 può osservare che questa conga passa per meno 1 a 0 quindi per esempio mettere x quadro se per te mi sei mano metto meno 1 meno 4 meno 1 meno 5 e 5 io ci metto sempre un punto per evitare il caso di un'ellisse che abbia soltanto soluzioni immaginari soluzioni complesse no pregato va bene allora se lo scriviamo in termini di matrice la matrice è solitata la conga è 5 4 4 meno 1 qua abbiamo 2 meno 3 2 meno 3 meno questa è la matrice 3 3 quello che però ci interessa è con gli odovolvi che la matrice è il minimo in alto a sinistra gli odovolvi di questo minimo che sono lambda vengono la risoluzione lambda meno 5 per lambda più 1 meno 16 cioè lambda quadro meno 4 lambda meno 31 40 e qua viene lambda uguale 2 meno più la ranice di 25 quindi viene 7 e meno 3 e quindi si è un'imperbole allora per quanto riguarda gli autovettori relativi agli autovalori andiamo a fare un autovettore un autovettore calvare un autovettore relativico per esempio a7 ora abbiamo l'equazione 2a più 4b uguale 7a e il controllo ci mettiamo anche l'altra che si deve essere proporzionale la prima 4a meno b uguale 7b ora se andate a fare il fondo vedete poi viene 4b uguale 2a quindi a uguale 2b e se andate a sospirare viene 8b meno b che fate quindi viene a uguale più b quindi un autovettore per esempio è 2b questo è un autovettore per lato valore 6 se andiamo a prendere 1 meno 2 questo deve essere un autovettore per lato valore meno 3 per quale lo dico perché è ortopana rispetto al 3 vi ricordate che quando faccio l'ortoconale sto attento a mettere siccome adesso devo fare la matrice degli autovettori normalizzati allora il mio scambio è coordinato così la norma rimane la stessa la norma rimane la stessa che è la di calcini ma poi quando vado a scrivere la matrice di due autovettori ortoconali in questo modo la matrice mi viene simmetrica oltre a essere ortoconale cioè il quadrato di questa matrice fa l'identità se voi fate questa matrice al quadrato qui diciamo poi viene un quinto poi viene 5, 0, 0, 5 e quindi diviso un quinto che sta fuori viene la matrice di questa qua m allora qualità m risposta uguale a m uguale a m meno m ok allora però prima di usare questa matrice per fare la rotazione che girerà le nostre perbole in forma stanta cioè rotazione siccome questa matrice ha delimiante meno 1 si ha delimiante meno 1 è una simmetria in realtà poi io preferisco sempre vederla con una rotazione più una simmetria rispetto a un asse della x o della y se posso guadagno una simmetria direttamente però devo fare rispetto a un asse da calcolare quindi diciamo un guadagno è insignificante di pensarla con una simmetria direttamente prima di fare questo ci conviene fare una traslazione cioè qual è la traslazione? la traslazione è x uguale punto 2m y uguale più più n sostituite annulare i termini di primo grado quello che mi viene il sistema 5m più 4n più 2 uguale a 0 con 4m meno n meno 3 uguale a 0 se io voglio annulare i termini di primo grado e questo mi dà le soluzioni quindi m uguale a 10 su 21 e n uguale a meno 23 su 21 questa è la risoluzione esatta con queste posizioni di quei due valori lì la mia equazione la mia conica diventa nel piano v diventa 5 un quadro più 8 un gu meno un quadro più 68 su 21 uguale a 0 questa è la conica traslata traslata in modo tale che il centro sia diciamo il centro che sarebbe il punto uguale a il tempo y uguale a 7x cioè v uguale a 7u e v uguale meno 3u che sono aspettate scusate devo sbagliare gli altri vittori erano 2 erano 2 1 quindi 2 1 e l'altro è l'ottogonale quindi 1 meno 2 questi sono gli assi della nostra ipergola invece se voglio calcolare gli asintoti io divido tutto chiamo si uguale v su e l'equazione mi diventa meno si quadro più 8 si più diciamo ovviamente considero l'equazione senza termine non per trovare gli asintoti quindi diventa più 5 uguale 3 e quindi mi viene in si cioè più uguale facendo il punto 4 meno o più la di la di 21 è 4 è un po' più di 4 e mezzo quindi questi due asintoti sono uno così l'altro così e comunque la mia conica deve avere questi come assi quindi facciamo un po' così e va bene insomma deve no eh sì perché fai anche deve ah questi sono gli asintoti allora la mia conica nel piano un quale asse interseca se metto v uguale a 0 le soluzioni di v le trovo se metto v uguale a 0 le soluzioni di 1 le trovo e ti viene una somma di 40 quindi deve intersecare l'asse v quindi allora non mi tornano tanto i v diciamo non mi tornano i disegni i punti tornano bellissimo cioè questa qua deve essere fatta in maniatale con questi asintoti qua però deve avere questi assi qua allora 2 1 7 1 meno 2 comunque la cosa deve avere questo la la di perdo deve essere spaccata non non è qua gli asintoti questi sono gli assi e questi sono gli asintoti quindi dovendo avere questo asintoto e questo asintoto che si è fatta così questo dovrebbe spaccare di perdo la metà insomma fatelo col punto che verrà perché i conti sono giusti state controllate ok quando lo vado adesso qual è la sostituzione da andare a fare la sostituzione da andare a fare è questa bisogna fare la sostituzione u uguale 2 eta più psi fra quadrica 5 v uguale 2 eh scusate eta meno 2 psi fra quadrica 5 il che si dice che mettiamo u la matrice capesta 0 0 0 0 68 68 68 adesso andiamo a moltiplicare per la matrice 1 su radica 5 qua mettiamo 2 1 1 meno 2 0 0 0 0 radica 5 e qua moltipliciamo la stessa matrice 1 su radica 5 2 1 0 1 meno 2 0 0 0 radica 5 perché ci devo mettere radica 5 qua perché questa la vedo diciamo una fica sproconata cioè fatto a lettori autonormali qua ci devo mettere 1 ma se porto fuori 1 sulla 5 per mettere su lasciare solo l'interi qua dentro allora 1 diventa radica 5 mettere 1 sulla 5 adesso se andate a fare questo prodotto la matrice che vi verrà 7 meno 3 0 0 0 0 0 0 68 quindi quando andate a fare questa sostituzione la vostra conica diventa 7 eta 4 meno 3 si 4 più 68 su 21 e quasi cioè praticamente l'avete girata girata e poi fatto una simmetria rispetto alla seconda l'avete messa verso l'esplicanza cioè la mettete così ok va bene e quindi questa è l'analogica andiamo a vedere gli ultimi due esercizi per quanto riguarda per quanto riguarda il quinto esercizio non era non era non era neve deciso però non era abbiamo una funzione di due ragazzi f di x y uguale logaritmo x quadro meno x x più 17 frazzo x quadro più x quadro più e uno vuole sapere dominio e punti stazionale della allora naturalmente quello che mi interessa con questo qua è sempre così quindi quello che mi interessa da avere è quando questo numeratore è maggiore di z quindi il cambio di stanza risponde alla riservazione x quadro meno x y più 17 maggiore di z andiamo a studiare le equazioni corrispondenti poi viene y uguale anzi x y uguale a x quadro più 17 siccome x quadro a zero l'equazione non è soddisfatta posso dividere per x quindi x è uguale x più 17 su x allora questo qua nel piano x è un grafico di funzione che è una volta così 17 su x è molto no allora l'asinto è x oltre a questo asinto verticale l'asinto è x x più 17 x fa così l'asinto di x è uguale a x quindi questa è l'iperbole senza studiare la monica non c'è bisogno questa è l'equazione di iperbole l'iperbole ha due asinti uno verticale e l'altro y uguale x e qual è la zona che mi interessa la zona che mi interessa è quella diciamo tra quella connessa perché in questa zona per esempio prendo 0 0 se prendo 0 0 qua mi viene 17 quindi questo è positivo quindi lo vedo in questo modo se invece prendo un punto qua per capirci per esempio prendo 1 2 no se prendete 1 2 no scusate x deve essere maggiore di questo quindi se ci metto 1 qua mi viene 1 più 17 fra 18 e fare 1 20 e prendo per esempio 1 20 qua mi viene 1 più 18 17 fra 18 meno 20 fa meno 2 e lo vedo come si può fare ovviamente qua la scala non è perfetta questo è molto in attivazione diciamo se qua mettiamo a 1 stiamo a 1 qua stiamo a y la madre di un po' qua poi vabbè bisogna andare a vedere quando è il problema il mino se il mino non mi interessa quindi mi interessa sapere per me la forma è fatta quindi la zona il dominio della funzione è compresa tra questi due rami di perbole e contiene l'origine o un discorso diverso è per fare i punti stazionali per fare i punti stazionali io ho def in dx ci sta un pezzo che sostanzialmente va bene 1 fratto x quadro y quadro x quadro meno x quadro meno x quadro meno x quadro e poi è il fattore davanti lo stesso ma questo po' il nome è meno x cubo più x y quadro meno 2x e quindi meno x quadro meno 2x meno 34x e poi allora questo non sa nulla perché? questo non sa nulla mai questo sa nulla si ma sa nulla non solo nel dominio perché quando quello è uguale a 0 e lo rendono già riscontrato quindi nel dominio questo non c'è un problema quindi quando vogliamo a 0 possiamo vogliare a 0 perché il sistema è solo di questo con questo il problema è che questo è un sistema di grado grande però cosa scoprite? scoprite che se prendete questa equazione la moltiplicate per allora se prendo la prima equazione e la moltiplico per x e la seconda la moltiplico per x allora vi evidenze le parti che mi interessano le parti di grado grande se questa è la moltiplico per x viene x cubo y questa è la moltiplico per x viene meno cubo y se ne ho moltiplico per x x y cubo moltiplico per x x y cubo segni diversi se ne ho moltiplico per x di squadro y di squadro y quadro la moltiplici per x non vale se ne ho quindi dal sistema df quindi x uguale a 0 messo al sistema con df quindi x uguale a 0 posso ricavare l'equazione quando continuo questa per x più questa per x se ne va allora basta vedere cosa avviene quando continuo questa per x più questa per x quindi meno 2x y meno 30x quadro meno 2x y meno 34 y quadro uguale a 0 cioè sarebbe a dire 15x quadro più 17x quadro più 2x y uguale a 0 questa equazione se ci fate caso questo è radice di 15x più allora quello che voglio dire è che questo è una somma di quadrati perché se io faccio prendo radice di 15 e radice di 17 due volte per radice di 15 e radice di 17 è maggiore di 1 quindi io posso fare per esempio radice di 15x più 1 su radice di 15x tutto al quadrato allora se fate il quadrato poi mi viene questo pezzo poi in doppio prodotto mi viene questo e poi mi viene 1 un quindicesimo y quadro più 17 meno un quindicesimo y quadro uguale a 0 allora siccome questa è una somma di quadrati uguale a 0 deve essere uguale a 0 più di quadrati quindi questo è uguale a 0 quindi y uguale a 0 ma nel momento in cui uguale a 0 anche questa base allora questo uguale a 0 e anche la x uguale a 0 quindi l'unico punto stazionale è 0,0 l'unico punto stazionale è 0,0 e in realtà è un punto serio non può essere un massimo o minimo perché perché per esempio se vedete se vado lungo la x se metto x uguale a 0 x quadro più 17 fratto x quadro più 2 x quadro più 17 fratto x quadro più 2 questo all'aumentare di squadro il rapporto diminuisce quindi vuol dire che io lo vedo questa linea quindi se mi muovo con la 6 questo è un punto di massimo quindi qua la funzione sale diciamo qua la funzione x è positiva e qua la funzione x è negativa ok se invece mi muovo lungo la y vediamo un po' mi viene se metto x uguale a 0 se metto x uguale a 0 qui è un punto di no potremmo anche allora vediamo un po' forse sbagliate se io vado a sviluppare la mia funzione vicino a 0 e poi passiamo posto di facciamo lo sviluppo e chiaramente se devo fare derivate seconde non mi c'è si possono anche fare però se io mi dice faccio logaritmo lì mettiamo in evidenza 17 vicino a 0 questo non è una 0 no mettiamo in evidenza 17 sopra e 2 sussi quindi qua viene 1 meno x 17 più x quadro 17 poi qua c'è 2 per 1 più x quadro meno più x uguale uguale adesso avete logaritmo di 17 mezzi poi c'è più logaritmo di questo più logaritmo di questo meno di questo questo andiamo a sviluppare al primo ordine di questi termini che sono i termini che io chiedevo quindi qua mi viene meno x su 17 più x quadro su 17 più x scusate meno x quadro mezzi meno y quadro mezzi più o vincolo di squadra percentuale termini di ordine superiori quindi mi rimane da far vedere che questa quantità è sempre negativa che più o meno è quello che ho scritto e quindi effettivamente questo è un punto di massimo di massimo anche a sotto e il massimo vale quindi non è vero che non poteva essere un punto di massimo ok quindi questa è la funzione è la funzione andiamo a vedere l'ultimo esercizio che riguarda l'equazione differenziale anzi problema di Cauchy esattamente problema di Cauchy era y secondo meno 2y in primi meno 3y uguale coseno per poi x più x meno x con la condizione iniziale di 0 uguale più meno di 0 uguale a 0 allora qui la soluzione comogenea associata è lambda per e alla meno x più mu per e alla x che si fa si quadro meno x meno 3 uguale a 0 si fanno le radici le radici sono meno 1 e 3 e qui questa è la soluzione poi per fare le soluzioni diciamo con il termine non omogenea ci dovete aggiungere soluzioni particolari allora la soluzione che vi da il valore diciamo seno è del tipo a sen x più b cosen x e quindi fare il potente condivente meno un quinto sen x più il decimo cosen x poi qua ci avete e alla x più e alla x e alla x per far uscire alla x basta un ultimo di alla x quindi facendo il conto mi viene meno un ottavo e alla x però per far uscire alla meno x siccome alla meno x la soluzione è la oggetta dovete mettere x per e alla meno x per una costante vi fate conto che la costante viene anche per caso un ottavo quindi qua questa è la soluzione completa senza valutare le condizioni iniziali nel momento in cui andate a valutare le condizioni iniziali trovate due sistemi allora valutando questa in zero vi viene lam più mu più un decimo meno un ottavo uguale a zero cioè questo sarebbe un quattro scusate meno un quattro e facendo la derivata uguale a zero vi viene mu meno anda meno nove ventesimi uguale a zero le soluzioni di questo sistema è perché quando io arrivo la derivata questa viene meno anda e alla meno x valutata in zero fa meno a la derivata di questa viene tre mu quindi scusate che fa che tre mu tre mu e alla tre x che valutata in zero fa tre mu la derivata di questo fa meno quindi viene meno un quattro cos'è iniziali valutata in zero fa meno un quattro la derivata di questa proporzione a assieme zero fa zero quindi viene tre mu meno l'anno meno un quinto poi quando vado a derivare di questo la derivata di di alla x e alla x quindi viene meno uno stacco perché e alla x in zero fa ora la derivata di questo fa la derivata di alla meno x rimane qui ad avere alla x quando la vado in zero fa zero ma la derivata di x fa uno e alla meno x in zero fa sempre uno quindi quando metto un altro meno un quattro uguale adesso se fate il punto questi sono meno quattro ventesimi questo meno quattro meno cinque ventesimi meno quattro cinque meno nove e quindi avete un po' seconda funzione le soluzioni di questo sistema sono mu uguale a più 19 su 160 e l'anno uguale meno 15 su 160 cioè meno 3 quindi queste sono le ultime due costanti da calcolare imponendo le condizioni iniziali e avete esatto completamente l'esercizio quindi l'esercizio la soluzione di questo programma di Cauchy è questa funzione qui con questi due logri costanti che abbiamo scritto quindi questo è il compito